E adesso vi parliamo di un'iniziativa culturale che si è tenuta questa mattina a Cosenza a letture in chiostro la presentazione del libro Rita Levi Montalcini, una donna libera, edito da Rubettino e scritto dalla giornalista Carola Vai che è nostra ospite. Buonasera. Buonasera. Dunque perché una biografia su Rita Levi Montalcini? Innanzitutto buonasera a tutti. Una biografia su Rita Levi Montalcini perché io faccio la giornalista e avendola conosciuta ho scoperto che non era mai stato scritto nulla su Rita Levi Montalcini. Tutti sapevamo, tutti sappiamo che Rita Levi Montalcini ha vinto il premio Nobel per la medicina, ancora unica donna italiana ad aver ottenuto questo premio, ma della sua vita e come era riuscita ad arrivare a questo traguardo incredibile non si sapeva nulla. Rita è una donna che ha attraversato, bucato, come diciamo noi giornalisti, il video mondiale perché è notissima in tutto il mondo, ma come è riuscita a conquistare la platea mondiale? Da questa mia domanda io ho scritto questo libro. Ecco, faceva riferimento al fatto che l'ha conosciuta di persona. Che ricordo ne ha? Ho un ricordo, quando l'ho intervistata più di una volta, di una donna enigmatica, un po' difficile da capire, molto elegante, questo lo vedevamo tutti, molto immediata nel dare le risposte, ma io volevo andare oltre a questa immagine. Ecco, avevo un ricordo molto bello, di una donna molto determinata, molto audace, molto, un giorno mi ricordo a Torino, venne lasciata sul poggio e le disse, oh sono onorata di rivederla professoressa, e lei mi disse sì d'accordo, aveva già 90 anni, superato i 90 anni, era già senatrice a vita e mi dice d'accordo cara, però mi dia il braccio perché la vecchiaia è una cosa importante, ma io non ci vedo molto bene, ci sento ancora meno, con questa determinatezza, oltre i 90 anni, per cui una donna gradevole, piacevole, che buca e riempie la sala dove si presentava, tant'è che quando entrava in Senato riempiva il Senato, ma lei non riempiva solo il Senato, lei riempiva qualsiasi tipo di sala, era una donna molto piccola, molto esile, ciò nonostante emanava una luce speciale. E anche con una grande umiltà, nonostante le grandi difficoltà che ha dovuto affrontare per diventare quello che è stata? Sì, sì, apparentemente era una persona utile, umile. Noi dobbiamo pensare che Rita Levi Montalcini proveniva da una famiglia ricchissima, ebrea, nata nel 1909, quando è nata Rita Levi Montalcini non c'era la sanità pubblica, non c'era la pensione di anzianità, non c'erano le ferie pagate ai lavoratori, a 65 anni lei beneficiò di queste tre cose, non c'era ovviamente la televisione, non c'era internet, non c'erano i telefonini, non c'erano le minigonne, non c'era il diritto alle donne di votare, quando morì c'erano tutte queste cose, lei stesso usava tutte queste cose, apparentemente era umile, ma di un'umiltà molto particolare, perché in realtà lei si occupava della sua ricerca, lei era un medico, ma aveva scoperto di non riuscire a fare il medico, si era dedicata tutta la vita alla ricerca, ma era un'umiltà, diciamo così, un po' aristocrata. Brevemente, la storia di Rita Levi Montalcini può essere un antidoto agli stereotipi su donne e scienza? Sicuramente, lei ha sdoganato anche la presenza delle donne nella scienza un po' scure, un po' bruttine, un po' distratte e un po' sciatte, perché lei invece è addirittura soprannominata la principessa della scienza, ha tanti soprannomi. Lei è riuscita a un certo periodo, superati i 90 anni, adesso tra i giovani ad essere più famosa di Valentino Rossi. E dunque un grande successo. Grazie a Carola. Io spero che piaccia al pubblico. E rimandiamo al suo libro per saperne di più.